Il dipartimento si assicura che il mondo della magia resti nascosto al mondo reale. Non sono un mago, sono un cercatore e vendo ingredienti magici tutto qui. È il momento di fare un pa' di soldi. Topi di fogna. Daniel Spellbound, un potente malvagio vuole l'uovo per minacciare il nostro mondo magico. L'oscuro mago. Io sono Ogi. Visto che stai largendo regali da queste parti, può farmi avere un bel panino. Ora vorrei avvalermi dei tuoi servizi. L'uovo di grifone. Mio padre quando è morto era sulle tracce di questo oggetto. E assicuro che non permetterò mai a nessuno di soffiarmi quell'uovo. Quindi questo è un no per il panino. Salta su! Lucy! Il primo Thomas mi ha affidato il compito di farti rigare dritto. Molti posti magici sono raggiungibili in un modo abbastanza insolito. Sono stata in molti posti schifosi e la bocca di una rana vince su tutti. Il cubo delle fate è allucinogeno. Andiamo! Non stuzzicare i goblin. Sono spesso dei veri idioti. I gremlin sono attirati dagli oggetti meccanici e tecnologici. Siamo proprio nel territorio del re insetto! Oh! È anche meglio di una fionda. L'uovo o morirete. La magia non appartiene a nessuno. La magia vuole essere libera. Oh!